Sono 109 anni che aspettiamo questo evento, sì, grazie a Don Luciano e a Sarge B. E vi è andata pure bene perché dovevate andare in Sarge C, ma noi ci accontentiamo della B. Sarge B, Sarge B, Sarge B, Sarge B, pure l'uccellino in Sarge B. Orologi e Maserati, non vi serviranno un cazzo qui, benvenuti gobbi in Sarge B. Sarge B, la domenica sportiva l'ha lasciata a noi che siamo in a, per voi c'è a tutta di lunedì. Sarge B, Sarge B, Sarge B, Sarge B, Sarge B. Sarge B, Sarge B, Sarge B. Sarge B, 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 Sarge B Se volete, potete anche iscrivervi a un interclub, perché dovete sapere che c'è gente che in questi luoghi non ha mai vinto un cazzo. Sarie B, Sarie B, Sarie B, Sarie D, pure l'uccellino, Sarie B. Sarie B, Sarie D, pure l'uccellino, Sarie D. Sarie B, Sarie B, Sarie D, pure l'uccellino, Sarie D, Sarie D, Sarie D, Sarie D, Sarie D, Juve a mano trenta, Sarie D. Bisogna sempre crederci, perché c'è sempre qualcuno che ci permette di farlo. Grazie Juventus, grazie per questo momento e per gli momenti dell'anno prossimo. Comunque cazzo che ci vado in Serie B, piuttosto vado a giocare tutta la vita nel Napoli, o all'isola di Bonza, meglio ancora.